La pendolaccia di Giuseppe Emilio Carelli, voce narrante Paolo Pastore Quando a casa massima arriva la pendolaccia, il carnaval è già perduto la faccia. Quattro di prima vanno per quattro e molto uviti, a rete risuscitati. Nel palco addresciuto in bacio i pregatori e dal gacca in mezzo alla baldori. Quando la cristiana in mezzo alla strada, va a raccogliare come la campanata. La band del paese si apre l'asfalato, la figura è mascarata e è tutta in arrasata. Arriva nel carro i papazzi di carta a peste, farina e coriandolo se c'è nata in peste. Dopo che l'asfalato è bello e frenuto, a tocca la giurì a dirci che è venuto. Se sape che all'inna avesse da pora di a me, ma a penale d'una di oggi, se mi dimana che andiamo di. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.